Gruppo Marigio, sono Eric Medved, docente di ingegneria informatica, sono referente per questa manifestazione che oggi il nostro Taneo e in particolare il Dipartimento di Ingegneria e dell'Architettura ospita. Odingers è per noi importante, fa parte della nostra missione organizzare eventi e manifestazioni del genere perché ridurre il gender gap, in particolare nell'ambito STEM ed informatico, è qualcosa a cui obiettivamente noi puntiamo. Il gender gap, cioè il fatto che, dicono le statistiche, solo il 20% dei laureati nelle materie dell'ingegneria informatica sono effettivamente donne, è un problema non solo per il singolo ma è una limitazione per lo sviluppo dell'intera collettività perché chiaramente avere metà della popolazione che non contribuisce a pieno a alta formazione fa sì che poi la società stessa non possa ottenere quelle professionalità che sono necessarie per l'innovazione e lo sviluppo. Quindi per noi è assolutamente fondamentale favorire l'ingresso e il maggiore apporto delle donne a questo tipo di discipline e questa manifestazione è nella propria.